Domenica 8 ottobre vi ospiteremo nella nostra sede di Confcommercio per questo bellissimo convegno che è stato pensato dal gruppo terziario donna Pesaro Urbino per stimolare l'imprenditoria femminile e per dare una svolta. Vogliamo che le imprese femminili siano orientate al futuro e soprattutto che giovani donne che vogliono intraprendere nuovi lavori pensino anche all'imprenditoria femminile. Noi vogliamo dare degli spunti importanti con relatori d'altissimo livello affiancati per un bellissimo dialogo interessante alle nostre migliori imprenditrici. I temi trattati sono fondamentalmente quattro, il primo è imprenditorialità e innovazione, quindi il titolo già dice tutto da sé, poi abbiamo il tema del business e sostenibilità ambientale che vanno bene insieme, sembra impossibile ma è così, quindi si può fare business sostenendo il nostro ambiente e poi lo sviluppo della leadership femminile e management, quindi queste due parolone grosse che sono sempre state in mano agli uomini, qui ci mettiamo le donne a fare leadership, management e sviluppo quindi dell'azienda. E poi nel primo pomeriggio ci sarà il tema della felicità economica, quindi una scelta a educarsi alla finanza e alle scelte consapevoli, quindi essere formate per approcciare agli aspetti finanziari della propria attività ma anche della propria vita personale con consapevolezza. Sarà presente la nostra presidente nazionale Anna Lapini per cui anche lei porterà un bellissimo contributo di quello che succede a livello nazionale e delle grandi innovazioni che sono in atto. Se volete partecipare a tutta questa bella giornata dovete prenotarvi alla segreteria chiocciola a scompesaro.it e mi raccomando prenotatevi perché se no non potete partecipare, il tutto è comunque gratuito, organizzato da Terziario Donna, Confcommercio Marche Nord.